Scalzo. Beh certamente è una delle finalità che ci siamo ripromessi con quel protocollo di intesa con Coldiretti siglato dal mio ministero. L'educazione alimentare è fondamentale, iniziare dai bambini, dai ragazzi che poi portano nelle famiglie anche questo messaggio, mangiare sano, mangiare tra l'altro prodotti legati al territorio e quindi anche una rivoluzione all'interno delle mense scolastiche. Ministro, gli insegnanti non sembrano molto contenti del contratto che avete raggiunto, dicono che l'aumento è irrisorio, lei cosa risponde su questo? Beh dico che è il più importante aumento realizzato sino ad ora, è un aumento che sarebbe stato impensabile senza quei 300 milioni di euro che erano destinati a tanti progetti che invece abbiamo voluto destinare proprio al contratto, all'aumento degli stipendi, è certamente solo un primo passo ma voglio sottolineare come la filiera della scuola ne esca bene, tant'è vero che persino un sindacato come la CGL ha espresso apprezzamento.